L'ultima volta nel 2003 vinse l'immagine che ritraeva un sacerdote, si intuisce dal colletto bianco, nell'atto di consegnare un preservativo a qualcuno. Una provocazione certo, ma anche un modo diverso per fare prevenzione. Attraverso la sola maniera, dice l'ideatore del concorso fotografico giunto alla sua seconda edizione, per combattere le malattie che si trasmettono sessualmente, non solo l'AIDS. Siamo a Bisceglie, una stanza piena zeppa di profilattici, ce ne sono di tutti i tipi e per tutti i gusti, ritardanti, stimolanti, alla frutta. Si possono acquistare su internet il sito comodo.it, è stato il primo in Italia ad inventare la vendita online di questo prodotto, nato prima ancora dei distributori automatici per venire incontro ai più timidi e imbarazzati nelle farmacie. Manca un mese alla fine del concorso e già sono arrivate tantissime foto e questo è il segno che c'è una risposta, sia perché l'idea è simpatica, è curiosa, i fotografi cercano sempre delle cose stimolanti e sia perché è evidentemente un problema ancora sentito. Prevenzione dalle malattie ma anche un freno alle gravidanze indesiderate. Il preservativo, dice Massimo Valente, che di professione fa l'osteopata, meglio della pilola contraccettiva, sicuramente più naturale. L'ultimo nato, il condom che l'uomo sceglie in base alle dimensioni. I preservativi non sono tutti uguali, è che non è possibile mettere un piede 45 in una scarpa da 36, per cui poi diremo che il preservativo non va bene. No, non va bene quel preservativo, per cui noi da anni promuoviamo le misure per il preservativo. C'è una misura per tutti quanti.